C'è ancora la Virtus Franca Villa nel futuro di Leonardo Perez, che così come anticipato da tutto Calcio Puglia ha raggiunto l'accordo per il proprio rinnovo contrattuale. Il centro avanti mesagnese continuerà dunque a vestire Biancazzurro fino al 2024, driblando in sostanza le avanzi del Taranto e proseguendo un percorso cominciato nell'estate 2019. Tre anni fa Perez approdò alla nuova arredo arena dal Cosenza con tutte le intenzioni di riprendersi da un periodo sottotono. Nella sua prima stagione in forza all'Imperiali trovò la doppia cifra di gol, ma nel gennaio 2021 venne ceduto all'Arezzo per una cifra irrinunciabile. Dopo la retrocessione dei Granata, Antonazzo lo riportò a Franca Villa da svincolato ed ora conta di restarci per altri due anni. Una conferma che testimonia pieno quanto il club di Via Quinto Ennio sia ancora intenzionato a puntare sul proprio capitano sia in campo che fuori. Oltre che essere il più classico degli uomini spogliatoio, Perez quest'anno avrà tutte le intenzioni di migliorare i numeri della passata stagione, cominciata in ritardo a causa di un'infortunio e poi rivelatasi piuttosto sfortunata. Il classe 89 avrà la possibilità dunque di ricambiare la fiducia del presidente Magri già domenica a Torre del Greco. In assenza di Patierno toccherà proprio al numero 10 prendere in mano le redini del reparto offensivo, con Maiorino e Murillo pronti a sostenerlo. Nei tre precedenti con i Corallini, Perez non ha mai né vinto né segnato, vorrà pertanto rifarsi già domenica, partendo con il piede giusto e dimostrando a tutti l'importanza del rinnovo appena siglato.